La pizza napoletana con pasta morbida e sottile ma dai bordi alti è la versione della pizza tonda preparata nella città di Napoli. Dal 5 febbraio 2010 è ufficialmente riconosciuta come specialità tradizionale garantita STG dall'Unione Europea e nel 2017 l'arte del pizzaiolo napoletano di cui la pizza napoletana è il prodotto tangibile è stata dichiarata anche dall'UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità. L'espressione pizza napoletana data la sua importanza della storia e nel territorio viene usata in alcune regioni come sinonimo per pizza tonda. Le prime notizie riguardo alla pizza napoletana vengono fatte risalire al periodo che va dal 1715 al 1725. Vincenzo Corrado alla metà del settecento scrisse un pregevole trattato sulle abitudini alimentari della città di Napoli in cui osservò come fosse costume del popolo condire con il pomodoro la pizza e i maccheroni. L'associazione di questi prodotti e le sue osservazioni diedero di fatto inizio alla fama gastronomica della città di Napoli e attribuirono così al Corrado un ruolo importante nella storia della gastronomia. Quelle stesse osservazioni costituiscono la data di nascita della pizza napoletana un sottile disco di pasta condito con pomodoro. Le prime pizzerie comparvero a Napoli nel corso del 1700 e si diffusero poi ovunque nel mondo. La peculiarità della pizza napoletana è dovuta soprattutto alla sua pasta che deve essere prodotta con un impasto simile a quello per il pane, ossia di farina di grano tenero 00 e completamente privo di grassi, morbido ed elastico, lungamente lievitato per sviluppare molta anidride carbonica, steso poi a mano in forma di disco senza toccare i bordi che formeranno in cottura un tipico cornicione di 1-2 cm con alveolatura interna mentre la pasta al centro sarà alta circa 2 mm e mezzo. In modo che un veloce passaggio in forno molto caldo la lasci scioglievole, soffice e ben cotta. Nella più stretta tradizione della cucina napoletana sono previste solo due varianti per quanto riguarda il condimento, la pizza marinara con pomodoro, aglio, origano e olio e la pizza margherita con pomodoro, mozzarella STG, specialità tradizionale garantita, tagliata agli stelli, mozzarella di bufala campana a cubetti, basilico e olio. Inoltre alcuni ritengono che il pomodoro debba essere esclusivamente di tipo san marzano. Sebbene i puristi di questo piatto considerino solo due tipi di pizza tradizionale, le già citate margherita e marinara, sono comunque diffusi numerosi altri tipi di condimento che prevedono l'aggiunta di diversi ingredienti sopra la pizza. Non è possibile elencare le innumerevoli varietà di pizze che sono state via via inventate, ma alcune tra le altre varianti di pizza napoletana più comuni nella tradizione italiana sono sicuramente la capricciosa, la quattro stagioni, la quattro formaggi e la diavola. Secondo il disciplinare per la definizione di standard internazionali per l'ottenimento del marchio pizza napoletana, la cottura deve avvenire in forno a legna a circa 485 gradi centigradi per non più di 60-90 secondi. La pizza napoletana va consumata immediatamente, appena sfornata, negli stessi locali di produzione e l'eventuale asporto del prodotto verso abitazioni o locali differenti della pizzeria ne determina la perdita del marchio. Questo dice l'articolo 6 del disciplinare per la definizione di standard internazionali per l'ottenimento del marchio pizza napoletana STG, specialità tradizionale garantita. Gli strumenti tipici per la lavorazione della pizza napoletana sono l'agliara, un contenitore in rame interamente stagnato con il becco lungo e stretto in modo da far fuoriuscire un filo d'olio sottile e continuo che i pizzaioli tradizionali utilizzano per versare l'olio. Per infornare e governare la pizza in forno si utilizzano due pale a manico lungo, una più larga di forma quadrata dove la pizza viene stesa cruda e con la quale la pizza viene infornata ritirandola con un rapido colpo di braccio. Questa pala era tradizionalmente in legno ma per motivi igienici è stata recentemente sostituita da una versione in alluminio. Un'altra pala più piccola, tonda e di ferro, viene invece usata per far ruotare la pizza nel forno in modo da farla cuocere uniformemente su tutti i lati. Grazie.